Giovedì 4 ottobre, giornata celebrativa in Italia di San Francesco e del giorno del dono, Avis Fano promuoverà l'evento dedicato al Dono Day 2018. L'iniziativa promossa con il patrocinio del Comune di Fano, allo scopo di coinvolgere tutte le associazioni di volontariato cittadine in un momento di interazione, unione e aggregazione. L'evento è aperto anche ad associazioni sportive, scuole, enti pubblici e privati che si riuniranno in un momento conviviale nella piazza principale della città della Fortuna a seguito di un appuntamento culturale. Aspettiamo tutti i cittadini fanesi, tutti gli associati, coloro che si occupano di volontariato a venire presso la sala San Michele dell'Università del Fanoteneo alle ore 17 dove ci sarà la professoressa Angela Genova dell'Università di Urbino a parlarci di capitale sociale. Finito questo bellissimo momento culturale e associativo ci ritroveremo in piazza 20 Settembre proprio sopra la stella del nostro centro della città per dipingere un cuore umano e quindi ci troveremo tutti insieme con le proprie cromaticità, con le proprie maglie colorate a disegnare un cuore colorato e per magia questo cuore colorato verso le 19.30 all'imbrunire si trasformerà in un unico colore. Fra le 400 associazioni presenti nella città prenderanno parte all'iniziativa anche l'Associazione Sindrome di Williams, quella riguardante la sindrome di X fragile ed infine Teleton con un importante sostegno per la ricerca. Teleton nella regione Marchi è molto ben rappresentato, ha una collaborazione stretta con l'Avis di Fano con la quale organizzerà nella prossima campagna di vendita di cuori di cioccolato un banchetto in piazza 20 Settembre per raccogliere fondi a sostegno della ricerca della cura delle malattie genetiche RA.